Ehi, che succede? Mi sembriamo molto felici oggi. Sento già la tua mercanza. Ciao Roger. Com'è andata, Fred? Bella licenza. Favoloso. Dici da un po' più d'amido la prossima volta. Sì, estira la mano. Ciao Giuseppe. Come stai? Saluto a suonare. Grazie. Piedi, Leone. Oltre te piedi. Che volevo? Prendetelo. E' stato trasferito. Trasferito? Ma che cavolo? Cavolo. Vabbè, vabbè. Avanti, avanti. Ma dove siamo? Ma io se bene dove siamo? Ehi, che succede? Mi sembriamo molto felici oggi. Sento già la tua mercanza. Ciao Roger. Com'è andata, Fred? Bella licenza. Favoloso. Dici da un po' più d'amido la prossima volta. Sì, estira la mano. Ciao Giuseppe. Come stai? Saluto a suonare. Grazie. Ciao Roger. Com'è andata, Frank? Bella licenza. Favoloso. Ehi, l'hai vista la partita? No, purtroppo me la sono persa. Ah, è stata stupenda. Davvero? E come? Ti sei persa una gran cosa. Io dico che questa fine settimana mi sono divertito più di te. Ah, beh se lo dici tu. Andrò, tieni, Roger. Stanno trasferito. Perseguitato. Questo è carcere duro, Frank. Piegato. Sei già morto, leone! Ma mai vinto. Nessuno è morto finché non è sepolto. Per il ciclo. Action. Qual è il piano? Lo saprai al momento giusto. Donald Sutherland. Sintester Stallone. Sorvegliato speciale. Giovedì alle 21. Con Iris. Ciao Roger. Com'è andata, Frank? Bella licenza. Favoloso. Ehi, l'hai vista la partita? No, purtroppo me la sono persa. Ah, è stata stupenda. Davvero? E come? Ti sei persa una gran cosa. Io dico che questa fine settimana mi sono divertito più di te. Beh, se lo dici tu. Me lo tieni, Roger. Come va il tuo diesel, Jimmy? Un disastro. Si ferma, si ingolfa, non parte. Io non so più che fargli a quel maledetto motore. Ci sarà l'acqua nel tubo del gasolio? Apri la bocca. Ah, ah, ah. Tu dici? Ti scommetto la testa. Toglitelo. Va bene. Ci vediamo dopo, Jimmy. Dici tu? Dici tu?